In Veneto i carabinieri del Comando Provinciale di Padova e i finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno dato esecuzione a 33 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni soggetti appartenenti ad un'organizzazione criminale dell'Andrangheta. Le operazioni avviate nel 2015 sono state coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia coinvolgendo oltre alla nostra regione anche Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria. E' proprio dalla regione del sud Italia che la cosca dell'Andrangheta Grande Aracri ha origine in particolare da Cutro in provincia di Crotone. Da tempo si erano insediati nel nord Italia comprese le province venete di Padova, Venezia, Treviso e Vicenza. Qui anche grazie all'uso della violenza nei confronti di diversi imprenditori acquisivano territorio e aziende per riciclare e sviluppare attività illecite. Adescavano imprenditori in crisi promettendo loro un prestito per risollevare l'attività per poi costringerli a collaborare con loro anche contro volontà. In alcuni casi qualora le minacce prima e le aggressioni dirette poi non facessero effetto arrivavano a modificare gli assetti societari delle aziende diventandone di fatto i proprietari. I tassi di interesse a cui alcuni imprenditori tentavano di ribellarsi arrivavano anche al 300%. Grazie a questi subdoli i meccanismi eludevano il fisco accumulando una grandissima quantità di denaro contante in nero. Ammonta a circa 8 milioni di euro il valore dei sequestri odierni che sommati a quelli precedenti superano i 20 milioni. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, istorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Dalle indagini sono inoltre emersi stretti contatti tra esponenti della cosca andranghetista è una vasta platea di imprenditori veneti i quali in certi casi utilizzavano il denaro per fini personali e intermediari a cui risultavano essere consegnate periodicamente cospicue somme di denaro contante. Alla luce delle ultime inchieste sono già oltre 100 i soggetti arrestati in Veneto per criminalità organizzata, comprese anche operazioni avviate nei confronti della Camorra. Non si può più parlare di presenze a livello locale ma di un quadro di riferimento con struttura regionale, commenta il procuratore di Venezia Bruno Cherchi.